tele spettatori di video 33 un cordiale saluto ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con decoder il nostro approfondimento settimanale che questa volta sarà tutto incentrato sul tema del golf in particolar modo su un'area destinata ad essere trasformata in un campo di golf a 18 buche per parlare di questo argomento abbiamo invitato in studio due illustri rappresentanti del mondo del golf alto attesino su tirolese che dir si voglia ma non solo rappresentanti del mondo del golf ma anche due illustri rappresentanti del mondo economico imprenditoriale della nostra realtà ovvero abbiamo joseph costner che amministratore delegato di free al green power ma è anche responsabile del club for einstein assieme ad alex che è il presidente dell'omonimo club che si occupa di golf in quella di appiano ma siete anche lo posso tranquillamente dire quelli che siete stati un po il cuore pulsante l'anima che ha promosso questo progetto di questa realizzazione di un campo di golf a cavallo tra i comuni di appiano e di terlano adesso possiamo entrare un po più nei dettagli innanzitutto comincerei con chiedervi rispondetemi indifferentemente chi vuole per cercare di fare capire i nostri tre spettatori a che punto è questo progetto un progetto sicuramente ambizioso poi parleremo di cosa potrà portare economicamente alla nostra realtà dell'importanza di questo però per vedere innanzitutto che passi sono stati fatti a che punto siamo con questo progetto alex no io direi che siamo ad un punto buono abbiamo la parere positivo di terlano e di appiano del comune di terlano siamo proprio avanti perché abbiamo anche già il terreno a disposizione quanto segue ad appiano spero almeno nei prossimi mesi che anche la il comune si dovrà decidere adesso di dare il consenso e poi possiamo partire a fare il masterplan e così via ecco su quante su che aria si dovrebbe estendere joseph kostner questo questo campo di golf se abbiamo chiuso a l'interlano 22 ettari con la curia e sulla parte di appiano abbiamo se non sbaglio 27 3 giusto ecco 27 3 in tutto 9 bucca su una parte 9 bucca sull'altra parte nel contatto appunto stiamo mostrando a favore di camera il progetto dove possiamo vedere come viene suddivisa l'area questa è la parte che riguarda il la zona il comune di appiano mentre quest'altra la parte che rientra nell'ambito del comune di italiano siamo nella zona di riva di sotto sostanzialmente per cercare di spiegarlo sostanzialmente questo progetto riguarderebbe in pratica una parte che dovrebbe stare più al sole mentre un'altra all'ombra come come dovrebbe suddividere l'idea era quella che siccome d'estate fa caldo se il golfista è contento quando ha un po di ombra la parte di appiano si giocherà se si fa solo 9 bucche come si usa a fare dopo lavoro alle 5 6 si va a giocare due ore si giocherà le seconde nove e per esempio a novembre dove abbiamo poco sole si giocherà a terlano e anche i turisti del bavaria che vengono sempre saranno contenti perché possono giocare al sole e quindi sarebbe questa parte più esposta al sole dovuta utilizzare nel nei momenti più invernali momenti più freddi in questa invece la parte più fresca per i periodi estivi quindi si è pensato anche a questo ma un'altra curiosità rispetto a una disciplina sportiva come quella del golf è questa ma c'è veramente un numero di appassionati così alto in alto a di gesù itero oppure anche per quello che riguarda i turisti che transitano nella nostra realtà che sono appassionati di golf possiamo dare qualche numero voi che insomma avete questo campo è un campo di quello che avete in quella di appiano innanzitutto è quello attuale un campo scuola si è un campo pratica si chiama dove abbiamo quattro green di pratica è un driving range con 17 postazioni dove abbiamo tanti bambini perché si pratica è quello che ci manca adesso il campo vicino alla città ecco qualche numero a livello di iscritti iscrizione noi siamo in soci secondi soci 700 persone di cui abbiamo 250 bambini e si deve pensare che siamo aperti due anni due anni neanche per cui è un numero di un'associazione sportiva che in due anni si è fatta e che non è davvero considerevole non mi sarei aspettato numeri così così alti per quanto riguarda gli iscritti gli appassionati del golf ecco il golf è sicuramente un una pratica una disciplina sportiva che riguarda persone appassionate che evidentemente si sono avvicinano a questa disciplina però ne riguarda anche appassionati evidentemente che questa disciplina la praticano diversi anni professionisti che in questo caso avrebbero modo proprio di venire qui su questo campo anche a svolgere delle gare dei tornei questo è possibile con questo tipo di campo sì con questo tipo di campo io direi che sarà l'unica possibilità nella zona tanto ampia Bolzano Trentino e così via dove potremmo in un paio d'anni portare anche un campionato internazionale perché abbiamo un campo abbastanza lungo abbastanza difficile per cui sarebbe la chance di anche di avere una cosa un po' bella io sento costano il uno sport come il golf porta soldi diciamo domanda secca ecco un impianto così fa un numero di pernotamenti in nei dintorni di 50.000 persone all'anno sarebbe più o meno un 15 per annontamenti solo di appiano per quello è una infrastruttura molto importante che non si ha ancora fatto per il motivo semplice che i meleti erano troppo cari fino adesso e le mele erano troppo hanno portato troppa ricchezza oggi come oggi le mele non è che tirano più tanto e abbiamo preso l'opportunità a prendere questi terreni dove non c'è più questa tanta voglia di fare le mele ecco sicuramente questo economicamente sarebbe un vantaggio per tutta la realtà anche la dislocazione di un campo di golf come questo sarebbe abbastanza vantaggiosa c'è in una zona di passaggio vicino alla superstrada merano bolzano vicino all'entrata e alle uscite della 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 città capoluogo insomma sicuramente molto interessante anche sotto questo profilo sì secondo me in pratica tutti gli altri campi che abbiamo attualmente tranne l'ana sono minimo 40 40 45 minuti di distanza da bolzano bolzano caldaro dico sempre che si deve pensare che tra bolzano e caldaro quante persone vivono io credo circa 150 mila 200 mila dell'alto dell'alto alge che siamo in 400 mila la metà delle persone abitano proprio là e proprio là non c'è campo da golf per cui io credo che la posizione è ottimale quella di appiano ecco abbiamo parlato di una struttura destinata sicuramente a portare appassionati qui nella realtà alto a Tegina a soggiornare ma tutto questo evidentemente dovrebbe corrispondere anche alla realizzazione di alcune infrastrutture assieme a questo campo di golf è previsto qualcosa? non necessariamente perché abbiamo alberghi attorno in appiano e a italiano abbastanza il problema è che di turisti ne vengono sempre meno dobbiamo creare infrastruttura non è detto che non prima o poi faremo anche un albergo ma non è la necessità proprio cioè gli alberghi ci sono già l'importante è riempirli allora i vantaggi di questo campo sicuramente riguardano il turismo perché è destinato a portare più turisti e sicuramente turisti di un livello abbastanza alto lo possiamo dire? sì io vorrei prima precisare ancora della domanda di prima quanti turisti arrivano vuol dire Italia abbiamo 100 mila giocatori di golf in Germania abbiamo 600 mila giocatori di golf e tanti di quelli abitano al sud della Germania proprio per quello anche la nostra idea era di prendere un architetto che è residente a Monaco che è noto perché ha fatto il più bel campo di Malorca per cui la nostra idea era proprio anche di dare a sto campo un nome dove il turista tedesco può arrivare e può andare a visitarci insomma anche l'idea poi di prendere un architetto germanico è sicuramente in automatico una bella pubblicità nell'area germanica che verrebbe sicuramente a sapere della realizzazione di questo campo quella è l'idea ecco poi per quanto riguarda appunto lo sfruttamento di un'area come questa c'è anche da considerare una cosa insomma al di là di tutto è sempre un'area verde qui la vediamo la realizzazione interesserebbe anche un biotopo almeno per quanto riguarda la parte nel comune di Appiano nella zona di Riva di Sotto questo sicuramente è molto importante perché garantirebbe anche il mantenimento di una zona ecologicamente sensibile e importante sì naturalmente anche là abbiamo cercato di fare tanta acqua per dare anche ai uccelli e così via che passano da noi anche un posto dove si possono andare a riposare un po' e portare e aumentare il biotopo come si vede nella mappa a allargarlo in quasi allargarlo in pratica diciamo adesso c'è un biotopo che ha 3 ettari dopo ci sarà un biotopo più o meno di 50 ettari allora per i uccelli emigratori che passano da Bolzano l'unico punto dove possono atterrare è il sud dell'aeroporto dove c'è un piccolo laghetto adesso c'hanno un posto grande come l'aeroporto perché l'aeroporto c'ha 50 ettari e questo campo c'ha 50 ettari ecologicamente visto è un paradiso perché i meletti ahimè ma sono tutti uguali e non c'è posto per atterrare hanno anche loro come tutti tutti quelli che stanno nell'area bisogno di spazio per l'atterraggio e questo sarebbe sicuramente una bella possibilità per gli uccelli quindi anche sotto il profilo ecologico del resto insomma un campo di golf rappresenta il verde per eccellenza questo non bisogna dimenticarlo mai adesso ci dobbiamo fermare solo qualche istante per dare spazio alla pubblicità poi ci rivediamo subito dopo per la seconda parte di Decoder per continuare a parlare di progetto golf e eccoci studio amici telespettatori per la seconda parte di Decoder nostro approfondimento nostro focus settimanale che per chi si fosse collegato soltanto adesso lo ripetiamo è incentrato sul golf o meglio sul golf plazzo di Eppan questo campo a 19 buche che dovrebbe essere realizzato entro speriamo tempi brevi mi direte voi nella zona che è a cavallo tra i comuni di Appiano e Terlano precisamente per capirci nell'area intorno a riva di sotto un terrain ce l'avamo lasciati parlando dicendo del golf che è sicuramente uno sport o perlomeno le strutture che riguardano il golf che vengono realizzate nel massimo rispetto dell'ecologia cioè lo sport il golf lo possiamo tranquillamente dire questo è uno sport verde per eccellenza insomma è uno sport che non fa rumore viene praticato solo e esclusivamente nel verde meglio di così naturalmente il golfista sta 5 ore al verde cammina nei prati tirando una palla ma è sempre nel verde e non c'è rumore come lei ha detto è un sport molto rilassante poi peraltro non è solo il rilassante e il verde per i bambini per la gioventù si deve comportarsi bene nel campo c'è una etichetta non si può gridare per un giovane è educativo è molto positivo per la sua crescita e noi abbiamo la filosofia di farli giocare gratis fino a 24 anni già nel nostro campo dove siamo adesso ecco lei ha toccato l'argomento giovani e golf prima parlando con Alex Gossner abbiamo sentito insomma che il numero dei giovani che è già iscritto al vostro club è abbastanza considerevole però anche sui giovani avete incentrato una serie di interessanti iniziative le possiamo illustrare ce ne eravamo occupati con qualche servizio che abbiamo fatto proprio da voi relativamente a delle scuole che hanno fatto visita al vostro campo hanno tenuto ecco ci puoi spiegare un po' ci sono state delle iniziative particolari alle scuole sono state? sì abbiamo fatto due tipi di iniziative una volta l'iniziativa con la scuola elementare e media dove i scolari sono arrivati hanno provato un po' il golf un po' per capire le regole un po' di tutto diciamo tutto questo è stato sponsorizzato dalla federazione italiana golf dove abbiamo preso un contributo che siamo anche grati di averlo preso perché sennò sarebbe stato difficile e come secondo progetto abbiamo fatto golf e english che era veramente un successo anche d'estate dove si potevano portare i ragazzi noi abbiamo un maestro inglese che insegna golf e che è di Liverpool per cui ci siamo inventati sta cosa e questo devo dire era veramente un successo veramente grande cioè praticamente l'insegnante parlando solo inglese comunicava solo in inglese con i ragazzi e per loro è stato un esercizio sportivo dal punto di vista golfistico e anche della lingua molto molto interessante e molto accattivante poi per quanto riguarda gli iscritti se ne contano i praticanti circa 2500 in alto adice ci dicevamo a telecamere spente ma la vostra intenzione è quella di cercare di attirare giocatori da fuori dal capologo del tuo attesino oppure di cercare di crearne di nuovi a livello locale diciamo noi la nostra strategia come campo nella città primaria principale dell'alto adice è di creare un campo per i bolzanini siamo 100.000 persone d'intorno ai 150 io ritengo al minimo 1500 persone su questo parco campo saranno soci e io spero di quei 1500 che 500 bambini giocheranno da noi adesso ne abbiamo 250 siamo il club più grande dell'alto adice con 400 qualcosa iscritti fissi più i secondi soci più secondi soci 700 persone per quello il bene su un campo da golf è che il giovane incomincia anche un po' avere un'etichetta come si gioca non può non può gridare ci sono le regole a 5 5 ore cammina nel verde quindi è educativo secondo questo profilo ma forse anche poi il vantaggio di un campo a bolzano sarebbe quello proprio logistico vero e proprio insomma diciamo che per un genitore accompagnare un bambino in un campo che sicuramente è lei fuori dalla città rappresenta un problema muoversi raggiungere fare la mendel arrivare chissà dove per accompagnare un figlio a praticare uno sport diventa più problematico non solo per qualsiasi cosa avere un campo alla portata in questo modo sicuramente favorirebbe tutto questo no? sì è un si deve dire sarà quasi un campo pubblico perché pubblico in Inghilterra ci sono i campi pubblici vicino alle scuole che i bambini i giovanotti vanno in bici a giocare a golf questo a noi manca i nostri campi sono distanti 30 km non è possibile far giocare la gioventù quando vuole lei perché tu come genitore devi accompagnarlo ma non è è come il calcio i campi da calcio sono vicini alle città questo sarà un campo da golf per giovani che possono giocare per gli altoatesini per i bolzanini per quelli di appiano perché siamo a 3 km però al tempo stesso sarà anche una struttura in grado di ospitare tornei a carattere internazionale di portare qui notevoli flussi turistici sì perché questo campo è stato anche progettato con abbastanza partenze che il professionista riesce a partire da dietro e il campo si gioca abbastanza difficilmente e poi 6-7 partenze davanti ci sarà la partenza per i juniores la partenza per le donne e così via per cui come disegno che ha fatto Thomas Himmel secondo me è molto bello ecco vi faccio un po' sempre l'avvocato del diavolo insomma è un progetto che a questo punto è arrivato sicuramente ad una fase interessante e importante però sappiamo perché ce l'avamo parlato e sentiti anche in passato a livello del nostro telegiornale ci siamo sempre interessati nella questione abbiamo realizzato diverse riviste però non è stato tutto rose e fiori insomma uno dice un progetto che è destinato a portare denaro un progetto importante per l'economia un progetto importante anche sotto il profilo ecologico però non è che avete trovato porte aperte spalancate dappertutto è stato un percorso non facile il problema il problema più che altro pregiudizi no è trovare il terreno il golf oggi in Alto Aege è visto come un sport comune e piace a tutti abbiamo 3-4 campi da golf ma a Bolzano vicino a Bolzano non si trova il terreno abbiamo avuto una fortuna di trovare il terreno di Appiano che ha meli dentro e che non guadagna tanto se non si può dire che perde e un altro terreno che è di un proprietario che la chiesa che ce lo dà altrimenti non sarebbe possibile perché i contadini con appezzamenti piccoli non riesci a raggrupparli a dati 20 ettari questo è il punto chiave che abbiamo superato se no il golf è un sport accettato da noi non c'è problema e accettato abbiamo visto diciamo che le difficoltà riguardano un po' non il golf ma tanto i terreni che i terreni purtroppo da noi scarseggiano la maggior parte sono coltivate anche se poi andiamo a vedere insomma tutto sommato un campo come questo adesso lo vediamo inserito in un piccolo appezzamento però se ci alziamo un po' più in alto ci rendiamo conto insomma che tutto sommato lo spazio che viene portato via è davvero relativamente piccolo non è poi così grande ma piccolo lei deve pensare che questo campo ha la stessa grandezza come l'aeroporto di Bolzano sì questo sì non è piccolo non è piccolo per Bolzano 50 ettari non sono piccoli e lei non li trova in un appezzamento deve avere una grande fortuna come l'abbiamo avuto noi avete avuto fortuna però evidentemente ci avete anche saputo fare non è semplice si deve pensare che l'ANA ha solo 17 ettari di solo campo da golf tutto il resto sono strutture e driving range perché noi qua non abbiamo progettato una driving range come lei vede cioè la driving range c'era già da piano e rimarrà là con tutto il campo pratica e tutto questo campo sarà destinato solo esclusivamente a giocatori di golf che sanno giocare a golf l'idea è quella ecco poi per quanto riguarda delle strutture che dovrebbero sorgere attorno a questo campo parcheggi via dicendo eventualmente anche una struttura alberghiera verrebbe realizzata lì sul campo o in prossimità si può fare lì o anche in prossimità noi non abbiamo ancora pianificato le strutture alberghiere perché non è neanche il nostro compito si può fare o anche a meno a noi interessa il campo di golf una piccola clubhouse e un parcheggio ma anche il parcheggio in proporzione al terreno è una sciocchezza sono 5.000 metri e cosa c'è una domanda una struttura come questa porta anche posti di lavoro si naturalmente più o meno 15 persone lavorano fisso anche 20 tutto l'anno quindi poi ci sarebbe anche un indotto relativamente a certo forse materiali non se ne usano tantissimi però la manutenzione di un campo non è neanche poi così semplice insomma ci sono sicuramente dei lavori da effettuare si abbiamo per il comune di Appiano abbiamo garantito anche i lavoratori che là erano poi in troppo di prenderli naturalmente da noi per fare la manutenzione abbiamo anche già parlato sono contenti perché è sempre un bel lavoro sta all'aperto per cui in quel senso anzi creiamo un po' di posti di lavoro in più in quel senso ecco adesso con questo anno nuovo che cosa ci dobbiamo aspettare possiamo dare tra virgolette fare qualche promessa tempistica quanto tempo ci vorrà per vedere realizzata questa struttura dalla fase progettuale a quella realizzativa vera e propria possiamo fare possiamo dare non dico delle date precise però date io sono dell'opinione sono anche molto certo che entro quest'anno faremo il passaggio burocratico e l'anno prossimo anche forse già in autunno si può partire con le ruspe quindi autunno 2012 e al massimo primavera 2013 potremmo vedere già dovrebbe essere finito dovrebbe essere un anno dopo un anno dopo diciamo metà 2013 bene insomma con questa notizia riguardante la tempistica la possibilità di avere questa struttura entro l'estate del 2013 lo possiamo tranquillamente dire si conclude la nostra puntata dedicata a questa area golf che sorgerà nella zona alla periferia di Bolzano che sarà una zona al confine tra i comuni di Appiano e Teterrano che però insomma fornirà sarà destinata a fornire il bacino di Bolzano perché sarà tutto sommato Bolzano a Godernia oltre ovviamente ai comuni indirettamente interessati come Teterrano a Piano a Andriano e tutto quello che sta attorno ecco ringrazio i nostri due ospiti per essere stati disponibili a questa puntata dedicata al golf l'abbiamo voluta vedere non sotto il profilo squisitamente sportivo ma insomma sul fatto che viene realizzata una struttura importante per una realtà come quella dell'Alto Adige ringrazio Josef Gostner amministratore delegato di Free Rail Green Power nonché chiamato in causa qui come anche esperto di golf ma soprattutto come esperto in una struttura economicamente importante e ringraziamo anche Alex Gostner come presidente del club Freudestan di Appiano grazie a voi per averci seguito grazie anche a chi ha curato la parte tecnica di questa trasmissione in regia Michael Obersmith e in studio Paolo Goldin di Riberto Adang grazie come sempre per averci seguito e appuntamento alla prossima settimana grazie a tutti